Domenica 19 gennaio Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione del telegiornale che apriamo parlando della Puglia nautica protagonista in Germania nel Salone Nautico di Dusseldorf, il primo grande evento di settore del nuovo anno. Il presidente del distretto regionale di Puglia, Giuseppe Danese, ha sottolineato le caratteristiche di questa vetrina e l'opportunità da cogliere durante la partecipazione a questo evento, ovviamente per quanto riguarda le aziende pugliesi. Lo abbiamo raggiunto al telefono, sentiamolo. Anche la Puglia ed in particolare il distretto della nautica fra i protagonisti del Salone Internazionale Boot Dusseldorf in Germania, il primo grande evento di settore che inaugura il nuovo anno. A parte la straordinaria e variegata offerta in termini di imbarcazioni, di questo evento colpisce il fatto che sia organizzato sulla terraferma. Per la Puglia, regione circondata dal mare, è un ulteriore stimolo a puntare sull'economia del mare, come sottolinea il presidente del distretto nautico, Giuseppe Danese. Sì, un appuntamento già programmato nei mesi scorsi, un appuntamento a cui la regione Puglia assieme al distretto e assieme alle imprese nautiche del distretto pugliese non possono mancare. In continuità questo progetto di internazionalizzazione è iniziato già diversi anni fa. E' il salone più importante d'Europa, un salone anomalo perché si svolge interamente sulla terraferma, interamente al coberto di capannoni giganteschi. Possiamo ammirare super yacht, barche grandissime, tutte al coberto, per cui un salone che non dipende dal tempo, tant'è vero che fuori tante volte c'è la neve e dentro ci sono queste barche che non si usano d'estate. Quindi un contrasto che affascina ancora di più il cliente e entusiasmano gli espositori. La Puglia è presente, come dicevo prima, con moltissime aziende pugliesi che spaziano dalla produzione alla commercializzazione di barche, alla produzione di servizi e di prodotti. Diciamo che continuiamo a dire la nostra e, come diceva lei prima, non possiamo mancare a un evento del genere. Per dimostrare che la Puglia Nautica c'è, esiste e fortunatamente è uno dei comparti produttivi che in questo momento rimane ancora florido. Il fatto che sia interamente organizzato a terra, al chiuso, nei capannoni come giustamente lei anticipava e ricordava, deve essere anche di stimolo per una terra come la Puglia che ha oltre 800 chilometri di costa e che in questo settore veramente può dettare in qualche maniera una linea da seguire a livello nazionale e non soltanto. Sì, assolutamente. Questo tipo di eventi, se vuoi organizzati in maniera gigantesca, ci deve far pensare che noi con la nostra Puglia dobbiamo sfruttare quello che abbiamo. Probabilmente non abbiamo migliaia di metri quadri di capannoni da sfruttare, ma abbiamo, come ha detto lei, migliaia di metri quadri di mare da occupare con imbarcazioni belle, grandi, piccole, tutti i giochi d'acqua che esistono al mondo. Insomma, potremo sfruttare sicuramente al meglio quello che già naturalmente abbiamo. Diciamo che pian pianino ci stiamo provando e qualche volta ci riusciamo, qualche volta un po' meno. L'importante è non demordere. Quindi anche quest'anno noi continueremo a cercare di organizzare qualcosa sperando che comunque il pubblico pugliese partecipi, come devo dire, attivamente. Sorpreso con sostanza stupefacente, arrestato un 35enne di Francavilla Fontana, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato Carmelo Ciraci di 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Francavilla Fontana, hanno proceduto infatti ad un controllo del 35enne e lo hanno trovato in possesso di 20 grammi di hashish nascosti nei pantaloni. L'ulteriore perquisizione nell'abitazione del giovane ha consentito il rinvenimento di 60 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione e di materiale che comunemente viene utilizzato per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, l'uomo è stato condotto invece nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Che fine ha fatto il contratto istituzionale di sviluppo per Brindisi? Se lo chiede il segretario generale della CISL di Taranto Brindisi, Antonio Castellucci, che invita la politica e le istituzioni a riunirsi attorno ad un tavolo per accelerare sulle proposte concrete per il territorio. Sentiamo. Vorremmo davvero essere smentiti dai fatti, ma ci sembra particolarmente fondata la percezione secondo la quale il contratto istituzionale di sviluppo, il cosiddetto CIS, per la città di Brindisi sia scomparso dall'orizzonte istituzionale e da quello mediatico. Inizia così un intervento di Antonio Castellucci, segretario generale della CISL di Brindisi. Risale a 5 o 6 mesi addietro una riunione informativa preliminare a Palazzo di Città, nel corso della quale la CISL fu fra le prime ad argomentare su alcune riserve, riferito al fatto che il CIS Brindisi potesse riteresti non esaustivo degli interessi e dei bisogni di nuova occupazione e di sviluppo economico e sociale del capoluogo e meno che mai soddisfacente per l'intero territorio, così come era concepito. I riscontri sul territorio continuano ancora ad oggi ad essere relazionati agli spiegabili percorsi istituzionali, spesso individuali, che proprio per questo non hanno favorito ancora una forte coesione territoriale ed una solida costruzione di progetto condiviso, aggiunge Castellucci. Progetto che, salvaguardando quanto di positivo esiste nel territorio, facesse convergere gli interessi comuni rispetto a come generare sviluppo affrontandone le macrocriticità a partire per esempio dai temi della sanità, dell'appropriatezza dell'offerta sociosanitaria, dell'istruzione, del lavoro, delle infrastrutture. Auspichiamo perciò, prosegue ancora il segretario, che da subito la politica locale insieme con le rappresentanze istituzionali, sociali ed economiche recuperi il tempo perso sul CIS Brindisi, facendo estrema chiarezza sul fatto e che ancora esista questa idea. E la stessa politica favorisca invece la buona pratica della contrattazione territoriale, consenta di fare sistema ed insieme con l'autorevolezza del prefetto formalizzi proposte specifiche. Il sindaco di Brindisi, nella sua doppia veste del presidente della provincia, riconvochi prima possibile i soggetti della contrattazione per fare il punto sullo stato dell'arte, per dare corso senza ritardi ai processi virtuosi auspicati dalla comunità brindisina e per accelerare su ogni singola iniziativa in grado di portare a positivo compimento nel segno della corresponsabilità sociale il CIS Brindisi e tutto l'insieme delle rivendicazioni sociali ed economiche già evidenziate, puntando, conclude Antonio Castellucci, alle tante nuove opportunità finanziarie nazionali ed europee del medio e lungo periodo. A Brindisi è stato organizzato per il 25 gennaio prossimo, sabato, un evento, un'iniziativa dal titolo Notte a Cerano, alla quale prenderà parte anche il governatore uscente della regione Puglia, Michele Emiliano, nonché candidato alla presidenza della regione Puglia per il centro-sinistra. È subito scoppiata la polemica da parte di Forza Italia che sostiene che Emiliano faccia campagna elettorale proprio con i soldi pubblici per capire come stanno meglio le cose. Intanto vediamo un po' di che tipo di evento si tratta e poi passiamo invece alle critiche di Forza Italia. Dicevamo evento Notte a Cerano proposte e sostegno per lo sviluppo del territorio che è al centro del dibattito fra istituzioni, imprese e cittadinanza con l'obiettivo di contribuire effettivamente alla crescita del tessuto economico della città di Brindisi e della provincia. È un talk che vuole essere l'alba di un nuovo giorno che vede coinvolti tre livelli istituzionali, cioè regione e comune, per progettare un nuovo modello di sviluppo. L'iniziativa è stata organizzata con il contributo dell'Agenzia In House della regione Puglia Sviluppo e saranno argomentate le strategie ma anche gli strumenti più coerenti per la definizione di soluzioni innovative e finanziarie non che possano consentire il prevalere di uno sviluppo sostenibile per il territorio. A questo appuntamento che è previsto per sabato 25 gennaio alle 17.30 nel foyer del nuovo Teatro Verdi di Brindisi parteciperanno Francesco Boccia, Ministro degli Affari Regionali, Michele Emiliano, Presidente della regione Puglia, Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi, Antonella Vincenti, Vicepresidente di Puglia Sviluppo, Antonio De Vito, Direttore Generale di Puglia Sviluppo e Patrick Marcucci, Presidente di Confindustria Brindisi, insieme al noto cantante Albano Carrisi. E da qui sono partite le critiche di Forza Italia che in un suo intervento come coordinamento cittadino dice Emiliano fa campagna elettorale con i soldi pubblici, il Sindaco Rossi invece è coprotagonista dei suoi insuccessi. Allora sentiamo qual è la posizione di Forza Italia nello specifico. Il governatore della Puglia Michele Emiliano la deve smettere di fare campagna elettorale utilizzando i soldi pubblici, così il coordinamento provinciale e cittadino di Forza Italia. Dopo l'umiliante risultato delle primarie nella città di Brindisi, Emiliano torna per un'iniziativa di Puglia Sviluppo, agenzia della regione Puglia che in questo caso si presta a servire i padroni espressione del Partito Democratico Emiliano Boccia. Nella nota di presentazione dell'iniziativa si fa riferimento alla necessità di creare l'alba di un nuovo giorno per Brindisi con la presenza dei livelli istituzionali, nazionali, regionali e comunali e non a caso verranno a fare passerelle il ministro Boccia, Emiliano e il Sindaco Rossi. Molto meno comprensibile, proseguono ancora dal coordinamento provinciale e cittadino di Forza Italia, risulta la presenza della presidente di Confindustria Marcucci e del cantante Albano Carrisi che si prestano a fare da cornice ad un'iniziativa di chiaro stampo elettorale. Non è di queste passerelle che Brindisi ha bisogno. Se il ministro Boccia ed Emiliano ne hanno la capacità, facciano in modo che sia il governo ad occuparsi di Brindisi. Quanto al nostro Sindaco, ogni tanto si ricordi che proprio Emiliano per anni ed anni ha marginalizzato la provincia ed ancora oggi non c'è un solo rappresentante di questo territorio nella giunta regionale e soprattutto, concludono da Forza Italia, si ricordi di pensare alla sua città, che versa in condizioni disastrose anche per i suoi 18 mesi di malgoverno. E con questo è tutto per quanto riguarda questa edizione domenicale del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, arrivederci e buon proseguimento di serata. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale.